Allora ciao a tutti io sono qua con Carlo e siamo qua per provare il spettacolo gastronomico il capolavoro della cucina losanese è una pizza fatta da una macchinetta cioè non sappiamo esattamente come funziona volevo provarlo con un italiano carlo carlo darà uno score diciamo a questa pizza e valutare se veramente i robot ci sostituiranno oppure no voilà ecco e carlo vuoi dire qualche parola per la gente ciao c'è un sacco di rumore qui sono in 3 minuti siamo qua al pizzo matt di lausana tre minuti per cucinare una pizza tu sei si può come se quattro formaggi anche un panino fanno anche il panino classico che macchinetta arrabbiata che va forse prosciutto caldo ovviamente un franco puoi scegliere se farla fredda oppure calda da divorare immediatamente guardatemi mie avvie non so che cosa sto facendo non avevamo abbastanza contanti ma adesso proviamo a giocare con te è esattamente quello che volevo evitare come avete da mezzo franco io voglio morire aiutare proviamo così l'acqua è no 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 bene 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 C'è una barra di progresso, vedi? Oh signore, guarda che video, che maestro che mostrano su questo schermo. Che è quello che effettivamente sta succedendo adesso, giusto? Perché questa è una ripresa là. Sì, ma dopo questo dobbiamo... Wow, è arrivata la pizza. È bella calda, si sente. Attenzione, sta registrando il momento della verità. Quora Digest question, Friday, April 8, 2022. What happened in the life of actor Jim Carrey? He played the Eggman, right? Why do the Chinese not eat cheese? The thing that made me the saddest in my life was cows aren't real. It's sparking water. It's not sparking water. Quora Digest question, Tuesday, March 29, 2022. What was your quote only in Switzerland moment? I lost my wallet. The Swiss people are very industrious people. They, you know, out of my wallet took $20. What is it like to live in Zurich? What is the capital of Switzerland? Austria. The capital of Austria is fucking... I don't even... What are the two closest capital cities in Europe? The answer to this question is very exciting. The time it would take for, like, the Austrians to just invade and take over the capital of Slovakia versus the other way around is so different. What were the Slovakians thinking putting their capital there? They just made a big mistake. Is biblical Hebrew intelligible to modern Hebrew speakers? If Moses, like, pulled up to some, like, fucking dude bro in Tel Aviv right now. If Moses was trying to, like, take the Ten Commandments and re-pass them down, you know what I'm saying? They probably just, like, arrest him and, um, yeah, just put him in jail. Allora... Solo un morso, tutti sanno le regole. E poi uno scordai. E che ne dici? You know what? Gli darò... Sette e mezzo. Sette e mezzo?! Per una pizza da macchinetta, direi nove. Per una pizza in generale... Ok, no. No, diciamo più diciamo sette. Sette e meno. Sette, ok. Diciamo sette. Diciamo sette, sette. Lo avete sentito qua, prima di tutto, prima di tutt'altro, che questa pizza è una sette. La mia opinione si è sviluppata pian piano, ho lasciato che si sviluppasse e ho deciso che sette era decisamente troppo alto. Un voto più preciso per la pizza che ho mangiato sarebbe più, tipo, io direi cinque e mezzo per me. Questo è il mio voto finale. Allora, ultimi pensieri. Non ci torneremo. Ci sono modi molto migliori di spendere quindici cazzo di franchi per una pizza. Ma... Se... Veramente... Se ti trovi tipo che ne so un preaco, ho fatto. A tipo le due, le tre di notte e hai veramente bisogno solo di una pizza. Allora, puoi venire qua, al Pizzoma. Schifo.